Ciao amici Italia Top Games, ciao. Allora, sorpresa, una novità per il canale. Allora, cosa succede? C'è questo programma che si chiama Animates, che è carinissimo, vedete? Mi ha trasformato in un personaggio simpaticissimo e così qualcuno si lamentava del fatto che i filmati fossero troppo statici quando facevo dei video, diciamo, di commento. E allora, visto che per alcune regioni che non vi sto a dire preferisco non apparire direttamente, c'è lui che, come dire, prende le mie espressioni facciali, se io ride, se faccio quello cattivo così lo fa, e così potrò, come dire, interagire meglio in questi video. Il programma si chiama Animates e, detto questo, che a voi forse non interessa, oppure sì, perché è molto carino davvero la possibilità di trasformarsi in un personaggio che parla come sta facendo lui, Quindi, oggi parliamo di nuovo di UFL. Perché? Perché l'amico di Italia Top Games, Nicola Morgese, ha scovato una cosa molto interessante che viene dal passato. Allora, un account Twitter tutto da verificare, anche Nicola mi ha detto, Fabrizio, provaci tu a vedere se riesci a trovare qualche cosa, ma assolutamente non è facile. No, 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 no. Ecco. Allora, ho cercato, in queste informazioni, in questo account Twitter tutto da verificare, non è un Renan Galvani per dire viva Renan, viva Renan. Ho cercato un po' di dare queste informazioni. Allora, adesso mi sposto, mi sposto qui sulla destra. Come potete vedere, questa è un'immagine che riguarda un quasi annuncio, un quasi, quasi annuncio di UFL del 2018, molto prima dell'annuncio ufficiale. UFL, che è in produzione da cinque anni, stava per essere annunciato il 2018, secondo questo account Twitter. Già si parlava di Unreal Engine, il 4, si parlava di PS4, vedete, si parlava di Xbox e si parla anche di Nintendo Switch. Allora, questa cosa sembra verosimile, poi non è detto che sia vera, eh. Occhio, occhio, occhio al fatto che, vi ho detto, non è una cosa ufficiale, però, effettivamente, in questo momento, in questo momento, UFL è annunciato per le principali console. E quindi, da questa schermata, se fosse reale, c'era l'intenzione da parte del team di Strikers di lanciare il gioco su Xbox, su PlayStation e, appunto, anche su Nintendo Switch. Qui di PC neanche l'ombra, ed effettivamente, ad oggi, il gioco non è stato annunciato per PC. Lo sappiamo, lo sapete benissimo, vi ho fatto un filmato ad hoc per ricordarvi che, attualmente, Strikers sta prendendo in altissima considerazione il PC, ma, come dire, non è stato ancora annunciato per PC ufficialmente. Le console principali in cui Strikers lancerà il gioco sono Xbox e PlayStation, tutte le console Xbox e PlayStation. E poi, non so, se questa immagine fosse davvero reale, io ripeto, non ho avuto modo di avere conferme, però, è davvero interessante questa informazione, perché, vedete, c'è il logo Nintendo Switch e c'è anche quello di Early Engine. Sappiamo, comunque, che, per il momento, UFL, almeno, da quello che si è capito, sarà lanciato anche su PlayStation 4 e Xbox One, quindi sarà sicuramente su Unreal Engine 4. Se, come i football, successivamente, entrambi o uno solo passeranno ad Unreal Engine 5, quindi una next generation totale, al momento ancora non lo sappiamo. Comunque, quello che mi interessava mostrarvi era che UFL stava per essere annunciato tre anni fa, almeno a detta di questo account Twitter, doveva essere lanciato su PlayStation 3, su PlayStation 4, scusate, scusate, va bene, ma a lui perdonate tutto, a me no, ma a lui è simpaticissimo, io lo perdonate, vero? Me lo perdonate? Sono tanto carino, sono tanto carino. PlayStation e Xbox e più Nintendo Switch. Staremo un po' a vedere, quindi, se prenderà quota la possibilità che UFL esca anche su Nintendo Switch, perché, diciamolo, quando i football è stato annunciato per tutti i formati, tranne, tranne, tranne Nintendo Switch, siamo rimasti un po' perplessi, perché davvero non si spiega, perché tante altre produzioni, a cominciare da Fortnite, che sono disponibili sul mobile e sono disponibili anche su Switch, non è stato annunciato su Nintendo Switch. Ora, neanche UFL è stato annunciato per Nintendo Switch, ma da questa immagine comunque si nota un interesse da parte dei programmatori di lanciare il prodotto. Almeno così era nel 2018, stando a questo account Twitter. Comunque, staremo a vedere. Ringraziamo ancora Nicola Morgese per averci segnalato questo elemento, che, ribadiamo, non abbiamo trovato altre fonti. È tutto da verificare, però, visto che c'è un grande interesse per UFL, visto che il 27 gennaio prossimo ci sarà il lancio del Gameplay Cliter, abbiamo pensato di mostrarvi questa immagine che, appunto, viene dal passato, dal 2018. Staremo un po' a vedere, staremo un po' a vedere se avremo conferme in merito alla disponibilità di una versione anche Nintendo Switch, ma, come dire, l'appuntamento ora è fissato per il 27 gennaio e probabilmente in quella data, quando sarà immestrato il Gameplay Trailer, probabilmente il team di Strikers mostrerà anche le versioni, davvero, in cui il gioco sarà disponibile, almeno inizialmente, e poi staremo a vedere se ci saranno ulteriori novità. Io mi auguro che il gioco arrivi, ovviamente, anche sul PC, anche perché fare i video per me sul PC mi porta via molto meno tempo. L'encoding, vi assicuro, su PlayStation 5 è davvero lunghissimo. Non so perché, quindi, il PC rimane la mia pattaforma in riferimento per fare i video il più rapidamente possibile. Fatemi sapere se vi piace Animates e questo personaggio. Magari la prossima volta mi presento in forma umana o con un altro avatar. Fatemelo sapere, sono curioso di sapere le vostre impressioni. Dai, vi ringrazio per l'attenzione, come al solito, e al prossimo video, sempre sul canale d'Italia Top Games. Ciao!